Buongiorno a tutti e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume Itinerari mineralogici in Val Codera. Autori Sante Ghizzoni e Guido Mazzoleni. È un volume importante, è corredato anche di una mappa geologica. Il volume è ricco di ottime immagini, di bellissime immagini e gli autori ci portano in Val Codera alla ricerca di sassi belli, di minerali. Complimenti per quest'opera e buona lettura a tutti. Se vi piacciono i nostri video potete iscrivervi al nostro canale e vi aspettiamo per le prossime nostre proposte. Buona giornata. Grazie a tutti.